Sì, pronto chi parla? Oh, carissimi, quanto tempo, un bel po' che non ci si sente. Come state, famiglia, casa, lavoro? Sono gli sviluppatori di Minecraft. Sì, ditemi pure, ditemi pure, sono all'ascolto. Ok, quindi vi serve un nabbo che giochi alle Bedwars e che faccia completamente schifo? Tranquilli, ci penso io, ci penso io. No, 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 tranquilli, tranquilli, faccio io. Andiamo a fare schifo alle Bedwars. Amici, benvenuti in questo nuovo episodio delle Bedwars. Allora, come state vedendo, siamo già nella lobby con il nostro bel personaggino. Tra l'altro, guardatelo qui, che carino, che bello che sei, Goku. E, in teoria, dobbiamo joinare la lobby, non ce la fa giocare. Ok, perfetto, join world. Allora, come state vedendo, sto giocando, ovviamente, da PC nei server, perché su Play 4 non li hanno ancora messi. È tipo una vita che dicono, sì, sì, ma tranquilli, li mettiamo i server e invece non li mettono mai. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Dicevo, sto giocando senza il controller perché, non so, non me lo prende più. Boh, non lo so, prima riuscivo a collegarlo, adesso non più. Dovrò trovare un altro metodo, altrimenti è la fine. Ora, mancano 5 giocatori, siamo appena in tre. Vi faccio un piccolo taglio e ci vediamo nella disfatta più totale delle Bedwars. Ah, farò schifo. Iniziamo. Perfetto, signori, siamo spawnati nel solito luogo che tutti conosciamo e, appunto, la tecnica è sempre quella, ovvero quello di pre... Dov'è la lana? Dov'è... Signori? Perché non mi dà... Vabbè, ma ok, c'è... Ecco, partiamo già buggato, proprio perfetto. So già come va a finire questo video, che io faccio un paio di partite, mi metterò a piangere per quante volte mi picchieranno. Allora, ho bloccato totalmente il letto, l'entrata per il letto e ci prendiamo pure questa spadina, che non ci fa schifo. Anzi, quasi quasi, sapete cosa voglio fare? Sapete, signore, cosa voglio fare? Voglio prendermi talmente tanta lana da fare. Schifo, signore. Non so perché ho parlato... Che è successo? Vabbè, mi sono immaginato qualcosa. Allora, gli stivaletti costano 40 di iron. Io per ora mi sono ancora infognato sul farming proprio cattivo, però lì vedo dei diamonds in the sky e quindi che fai? Te ne previ? Eh, no, che non te ne previ. Quindi io direi che con il nostro bel blue e il giallo che è già morto, tra l'altro, quindi perfetto, un nemico in meno, ce ne andiamo alla conquista dei nostri diamanti. Sempre ovviamente tenendo un occhio di riguardo al letto, perché questi qua, io li conosco, questi qua, ci pusciano il letto di una cattiveria e di un'arroganza fuori di testa. Vi avrò fatto il tagliettino, comunque sono stato quatto come un gatto e mi sono rubatissimo 5 diamanti. Esatto, ci potenziamo la spad con sharpness. Ok, no, guardate quanto ferro che abbiamo. No, no, fermi, allora facciamo. Ci prendiamo per sicurezza un altro po' di lana, andiamo giù di uno stack. Poi in teoria dovremmo nascondere il tutto nella cesta, però... Non lo so, non lo so per ora, non ancora. Potremmo prendere quelli lì, ma non mi interessa, però mi interessa prendere l'arco. Quindi aspettiamo ancora uno di doro, che dovrebbe arrivare a breve. E in teoria prendiamoci l'arco. Se va bene... Ok, perfetto. Esatto. Dicevo, se ci va bene non ci pusciano nel mentre. E ciò che è successo, o meglio, ciò che non è successo. Quindi io lì vedo un botto di gente. Ci sta andando molto bene perché si stanno picchiando tra di loro. Il verde, vediamo com'è. Ok, il verde è in una situazione un po'... stupidina. E quindi io direi che volendo, signori, per la prima volta nella storia, il buon master non sarà colui che viene pusciato, bensì colui che puscia. Anzi, facciamo così, non facciamo gli stupidi. Giochiamocela safe e mettiamo dentro tutta sta roba. Perfetto. Perfetto. Guardatelo lì il verde. Si aspetterà qualcosa, secondo voi? Non si aspetterà niente? Non lo so. Nel dubbio io continuo un po' a costruire. Il brutto di non avere le cuffie, che non sento più di tanto, ma tranquilli che troverò un modo per cavarcela. Magari vedendo la nostra skin del buon Goku, vanno un po' in panico. Dicono, oh mio Dio, chi è questo qui? Oh mio Dio, ci sta pusciando Goku. E quindi si spaventano un pochino. E io direi anche giusto. Ora, il buon green non ci ha visto. Quindi perfetto, andiamo lì di cattiveria e di una prepotenza. Signori, di una prepotenza che voi dite, eh vabbè, quanto sei prepotente? Io vi risponderò, eh sì, siamo stati belli prepotenti. Siamo molto vicini alla meta. Perfetto, costruiamo un po' così, un po' strano. Sperando che lo Shift non ci abbandoni. Ma tranquillo Shift, io credo in te nel cuore mio, Naruto, Naruto. Piccola canzoncina che ci stava sempre. Mi era venuto in mente Naruto, perché prima c'era uno con la skin di Naruto. E sboom, sbim, sbramme, siamo arrivati. E il verde non ci ha visto. Shhh, zitti, 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 zitti. Perfetto, scappa. Ok, allora, piano, piano qui. Sì, perfetto, ora scappiamo, scappiamo. Vediamo com'è la situazione. Lo fightiamo? Sì, lo fightiamo. Signori, lo fightiamo, verde. It's one v one situation. Sotto! Oddio! Stai calmo, stai calmo, verde. Stai calmo. Va bene, va bene, ci ha ucciso, ci ha ucciso, ci ha ucciso. Ok. C'è ok, una minchia, però vabbè. Speriamo che non ci pusci. E lo sapevo, e lo sapevo. E che fai, non lo sapevi? Certo che lo sape... No, no, dai, morire così, no, eh. Morire così... È la fine. È la fine? No? Dai che non ci ha fatto niente. Dov'è il verde? È morto! Sì, è morto! È caduto! Potrei dire tutto grazie a me, ma mentirei, quindi va bene così. Riprendiamoci tutto il ferro della situazione. Signore, abbiamo fatto la nostra prima kill. Cos'è successo? No, esci, esci. Devo ammettere che sono veramente emozionato e non sto più nella pelle nel fatto di voler pushare altra gente. Ora, però, prima di pushare, farmiamo qua... Oddio, quanta roba! Farmiamo qui un po' di... No, questo no. Questo ci può stare. Purtroppo abbiamo perso l'arco, ma è stato un sacrificio più giusto che altro. Non so cosa dire, ho appena inventato una parola a caso. Il red non ha vita, il blu siamo noi, siamo messi molto bene. Ne potremmo pushare per gli smeraldi, che però non vedo. Saranno lì sopra? Non lo so, sinceramente. Non vorrei fare errori proprio adesso. Ok, i diamanti, altri sei, perfetti altri sei. Quasi quasi. Mamma mia, che bello, signori, sono veramente contento. Quasi quasi potrei o mettere una trappola, oppure intanto difendi ancora un pochino, va, per sicurezza. Dicevo, mettere una trappola, oppure sharpness. Cioè già, sì. Compriamo questo, va. Vai, ci sta, ci sta. L'armatura che non fa mai schifo, anche perché io nei fight perdo sempre. Quindi, non so, devo trovare un modo per non morire sempre. 40 di ingot ce li spendiamo anche, che ne abbiamo tipo un casino. E io direi di farli uccid... Ah, siamo 1v1! Ok, siamo contro il rosa! Eh, no, è ora panico, ecco. È ora partito il panico dell'1v1. Allora, questo non mi interessa, questo non... No, il rosa, sta arrivando il rosa. No, no, io ho paura. Oddio, cosa faccio? Ecco, non sono mai arrivato nell'1v1. Non so se conviene pushare. Compra qua un... No, via. Allora, veloce, master, sta andando nel panico. Compra, compra. Ok. Sta arrivando il rosa, stupido schifoso. No, mi è salito! Dai, salta. Dai, fai la... Sotto! Ecco, c'è il pic... Eh, niente. È la fine. Oddio, come ci sia... Che cosa sta succedendo? Non ho l'arco, altrimenti l'avrei già picchiato. Qua non posso costruire. No, non posso costruire. Dai, salta. Dai, salta. So che vuoi saltare. So che vuoi saltare, stupido. Stupido. Stupido! Sì? Sì, dai. Ah, dannazione. Ok, so cosa vuole fare. So cosa vuole fare. Sì, ci ha uccisi. Rip. Secondi, signori, siamo arrivati. Secondi. Va bene, so che non è ancora finita, però di sicuro arriveremo secondi. Ecco. Ecco, è la fine. Ci ha ucciso il... Cioè, ma io non capisco. Io non capirò mai come fanno loro... Ce l'ha distrutto, sì. Non capirò mai come fanno a vincere sempre. Cioè, voi mi scrivete nei commenti, tipo... Ma basta, torna indietro. Dicevo, voi mi scrivete nei commenti tutti i segreti vari. Prendi un botto di lana. Però, boh, non lo so. No, boh, non lo so. Non riesco mai ad attaccarli. Cioè, è incredibile come cosa. È incredibile. Nel dubbio... Sì, lo so che si può ancora fare. Però, a parte il fatto che non so dove sia la base del rosa... Rosa, sì, del rosa, esatto. E non ho comprato la spada, quindi sono stato un po' stupido. Però... Dai, collega. No, non collega. Dicevo, ora in teoria, detto che siamo appunto 1v1, il rosa deve venire alla caccia di noi, del nostro personaggino. E noi non vogliamo che ci uccida. Quindi, volendo, possiamo tipo fare una cosa... Oddio, stavo cadendo nel vuoto. Volendo, possiamo fare una sorta di perenne fuga affinché il viola, che non è viola, bensì è rosa, dicevo affinché il rosa non ci trovi. E noi poi andiamo a distruggere il letto e magari ce la fa... Ok, ci ha trovato. Ci ha trovato. È già finito il piano. Ah, dov'è la tua base, rosa? C'è il rosa alle calcagna e, da quel che è noto, ha la base piena di difese. Non... Cioè, oddio, è stradifesa la sua base. No! Ok. È stradifesa la sua base. Vediamo dove è lui, non lo so. Dobbiamo andare a pugni? Ma è la sua base, almeno? Secondo me no. Eccolo che arriva. Eccolo che arriva cattivissimo. Fisso e incattivito. Siamo morti, eh. Siamo stramorti. Signori, siamo stramorti. Devo scappare. Oddio! Oddio! Oddio, scappa! No! Ci ha tirato una mega sberla! Ci ha tirato una mega sberla! Ah! No! Ah! Va bene. Va... Va bene. Diciamo che poteva andare meglio. Torniamo alla lobby, signori. La nostra partita ce la siamo fatta. Poteva andare molto meglio? Sì. Poteva andare molto peggio? Sì, decisamente. Eh, nell'1v1... No, male. Nell'1v1 malino. Quindi io salvo ed esco come alla fine di ogni video. Vi direi, vi tolgo le cuffie. Ma non ho le cuffie perché non funzionano. Ciao! Grazie a tutti.